Domenica prossima si vota per le politiche e continua la nostra serie di servizi per presentare le proposte delle liste in Lizza in Regione. Oggi è la volta di Fratelli d'Italia, patto per l'autonomia e lista del popolo per la Costituzione. Andrea Vardanega. Non un partito ma un accordo tra persone intenzionate a portare in Parlamento l'attenzione per il territorio regionale. Patto per l'autonomia corre solo nei collegi del Friuli Venezia Giulia. Dieci anni di governi di centrodestra e centrosinistra e di segreterie romane milanesi hanno portato la sottrazione di ben un miliardo dal bilancio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Il patto per l'autonomia ritiene che solo un partito che risponde al territorio possa ribaltare questa situazione. Il nostro programma infatti è quello di recuperare queste risorse, da devolvere in interventi di edilizia pubblica, privata, infrastrutture. Noi vogliamo chiedere anche la competenza primaria di questa regione sull'istruzione università e vogliamo anche che sia finalmente realizzato un sistema elettorale che possa dare voce alle minoranze linguistiche.